Sesta corsa al Cirigliano Un miglio per anziani di categoria F Nove i concorrenti al Via Prima fila per Whisky Sanzi, Dampeti, Victory Grad, Volavia Dino, Big Bar e Uragan FKS In seconda Viscoggetto, Baldo Caparre e Vai Orazio Riprende a piovere E in partenza emergono Victory Grad e Volavia Dino Con la femmina di Belluomo che assume decisamente l'iniziativa Parcheggia in quarta posizione Uragano FKS Completata la prima piegata Volavia Dino Non prende affatto in mano e continua a buon ritmo Inizia la risalita di Zidane Petit Subisce l'anticipo a mezza ruota di Whisky Sun Whisky Sun anticipa definitivamente l'avversario E raggiunge Volavia Dino, 31 e 2 il quarto iniziale Andatura di comodo di Volavia Dino Chi accetta di tenersi ai lati Whisky Sun Seconda pariglia per Zidane Petit Seconda la corda Victory Grad, 46 e 7 i 600 Si viaggia sul piede dell'1,18 Scarsi Passaggio davanti alle tribune Con Volavia affiancata da Whisky Sun Che controlla Zidane Giro di pista in 1,2 e mezzo 16 di ultima frazione La terza pariglia è quella di Ubic Parre La quarta di Ubaldo Caparre Chiude il gruppo Vai Orazio Completamento del chilometro In 1,19,2 Fuoco alle polveri sulla retta di fronte Zidane Petit sospinge Whisky Sun Su Volavia Dino Che cerca di argomentare Ma Whisky Sun mette mezzo cavallo davanti all'avversario E poi la sopravanza In curva Zidane Petit Cerca di raggiungere il leader Corsa che è stata tattica E che si gioca sul parziale finale Whisky Sun in retta d'arrivo Con una di vantaggio sull'avversario Whisky Sun in vantaggio Whisky Sun si difende da Zidane Petit Sin sul traguardo Whisky Sun Zidane Petit vola via Dino 1,2,4 E l'arrivo probabile ed ufficioso Svolgimento tattico Aggiostrato al meglio Francesco Dufano Insalchi a Whisky Sun Badando solo all'avversario Si è adeguato ai lati di Volavia Dino E poi ai 600 conclusivi Mezzo giro conclusivo Fuoricò alle polveri Gran parziali E Whisky Sun ha respinto Zidane Petit Sin sul traguardo Il quale Zidane Petit È stato autore di un rientro Soddisfacente Molto bello di meccanica Forse ha bisogno di un po' di grinta Ma era di un rientro Si trattava di un rientro Quindi prova sicuramente valida Anche per il figlio di Ridicash Cosa Il più Is